Rapina una donna, la minaccia con una pistola e le porta via la borsa, ma poco dopo viene identificato e fermato dalla polizia e trasferito nel carcere di Vicenza. È accaduto all'alba in via Meschinelli, dove una donna chiede aiuto ai poliziotti delle volanti. Ferita alla testa e rapinata, mentre viene soccorsa, alcuni agenti trovano poco lontano la borsa, svuotata di documenti e denaro. Un cittadino si avvicina e racconta di aver incrociato un uomo in fuga che impugnava una pistola. Grazie alle immagini registrate dall'autovettura del testimone, i poliziotti riconoscono un 26enne romeno già ben noto alle forze dell'ordine e vanno subito a casa sua, dove durante una perquisizione trovano la pistola, in realtà un'arma giocattolo ma priva del tappo rosso, e poi i documenti della vittima e i vestiti indossati durante l'aggressione. E così il pubblico ministero dispone il fermo dell'uomo per rapina aggravata e il trasferimento in carcere a Vicenza.